In attesa che giunga il nome del prossimo assessore alla cultura, il sindaco Cosorini scioglierà la riserva dopo Ferragosto, tracciando l'identikit del successore di Franco Miracco, maggioranza e opposizione hanno le idee chiare su un punto soltanto. Dovrà essere espressione del territorio e ricucire determinati rapporti. Uno che abbia più che altro la voglia di rimboccarsi un po' le maniche di lavorare. Avevamo uno splendido, Andrea Mariani, e voglio ricordarlo, che invece il nostro sindaco manda a casa dopo pochi mesi, inspiegabilmente, diciamola così. Certamente un dialogo continuo con le realtà sarà importantissimo in quest'anno e mezzo che manca alla fine del mandato e siamo sicuri che il sindaco Cosorini saprà fare la scelta migliore. Sul resto, Toncelli e Camber sono di stanti anni luce, a cominciare dal giudizio sull'operato di Miracco. Abbiamo recentemente inaugurato il Museo del Request ed è importante ricordare che abbiamo trovato un disastro dalla precedente amministrazione e siamo riusciti a trasformarlo in un polo museale importantissimo. Così come avete visto tutti, l'estate triestina con i grandi eventi sta veramente riscontrando un grandissimo successo di pubblico. Si dice che il pesce puzza dalla testa, quando la testa non c'è il pesce non funziona, non è buono. Basta vedere la nostra splendida ex pescheria, lo stato di abbandono in cui versa. E non è che servono i soldi per le grandi mostre, cultura si può fare anche con pochi mezzi.